La Chiesa è in festa per i sette nuovi santi proclamati da Papa Francesco. Tra di loro due martiri, il giovanissimo José Sanchez del Rio, ucciso senza rinnegare la fede durante la rivoluzione anticattolica in Messico, e Salomone Leclerc, morto nel corso della rivoluzione francese. Due sacerdoti italiani, Rodovico Pavoni e Alfonso Maria Fusco, poi la mistica francese Elisabetta della Santissima Trinità Catez, il vescovo spagnolo di Palencia, Manuel González García, e infine il cura Brocero, sacerdote argentino caro a Papa Francesco. Nella messa celebrata in piazza San Pietro, il pontefice ha ricordato che i nuovi santi sono tali anche in virtù della preghiera che ha segnato la loro vita. Ricordando la fatica di Mosè nel tenere le braccia alzate nella battaglia contro Amalek, il Papa ha evidenziato che l'impegno della preghiera richiede di sostenerci l'un l'altro, ma è necessaria una preghiera insistente, non sporadica o altalenante. Restare saldi nella preghiera vuol dire essere saldi nella fede e nella Chiesa. Gridare, ha detto il Papa, non stancarsi, e se ti stanchi chiedere aiuto per tenere le mani alzate. È questo il mistero della preghiera, che non è rifugiarsi in un mondo ideale, ma lottare fino al limite e non da soli, perché il Signore vince con noi. Anche questi sette testimoni che oggi sono stati canonizzati hanno combattuto la buona battaglia della fede e dell'amore con la preghiera. Per questo sono rimasti saldi nella fede, con il cuore generoso e fedele. Per il loro esempio e la loro intercessione, Dio conceda anche a noi di essere uomini e donne di preghiera, di gridare giorno e notte a Dio senza stancarci, di lasciare che lo Spirito Santo preghi in noi e di pregare sostenendoci a vicenda per rimanere con le braccia alzate finché vinca la Divina Misericordia.